Uh! Ah ma poi la pagine Ah ma poi la pagine Poi ci dico più come si raccolta con le cose Che è? E' bucina qua le pinte Isto quale è lo? Isto qua è lo? Ciao ragazzi I'm so excited Stoicolo Stoicolo C'è il nuovo? Questo è il bambino, il bambino Il broso è finito Ok, non devono provare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.